Vostra maestà ci hanno scoperti. Bene. Aspettate! Schiaccio! È una trappola! Ritirata! Io non sono fatto come gli altri uomini. Avanti! Muoviti! Quelli al potere mi vedono solo come un brutto. Inadatto a cariche più elevate. Ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare. Se guardate sotto vedrete una sorpresa. E quando l'avrete vista vorrete sempre averla. Devo avvertirvi. Io non sarò il secondo al comando. Io vincerò con il fuoco. Io sono destinato alla grandezza. Ho trovato la corona di Francia nel fango. e adesso la pongo sulla mia testa. Volete il successo? Ma siete una nullità senza di me. Ditelo. Credo di parlare per tutti noi. Dormiremo molto meglio senza questo parassita. In quale paese ci troviamo? Nel mio.